Oggi si attiene un evento ufficiale del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Marco Poro, in collaborazione con China Museum Tea dalla Cina. Grazie a tutti. Il giorno 29 novembre di due anni fa, il governo cinese ha chiesto che la cultura del tè cinese è diventata il patrimonio intangibile dell'UNESCO. Dopo due anni siamo molto lieti di essere arrivati qui a Venezia, città sull'acqua, e facciamo questo bellissimo incontro tramite il tè. Celebriamo insieme il secondo anniversario del riconoscimento della cerimonia del tè come patrimonio intangibile dell'UNESCO. Speriamo di poter condividere il buonissimo e bellissimo tè cinese in Italia. Grazie a tutti. 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 Per noi è stato importante partecipare a questo evento e ospitare questa serie di eventi per fare in modo di contribuire alla comunità e avere comunque un impatto anche sul sociale, su quello che è intorno al cambio, che è uno dei pilastri anche della nostra compagnia. V-Repeats ha molto a cuore questo tipo di iniziative ed è importante che anche noi a livello dell'hotel portiamo avanti quello che è il cuore della compagnia. vi ripensi anche questo è amore per i luoghi, amore per la comunità e l'impatto sociale che portiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.